Vi svelo chi vince il Grande Fratello 2023, le previsioni di Fabrizio Corona. La finale del Grande Fratello VIP è ormai alle porte, lunedì 3 aprile scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione. Chi sul finale è stata vittima di una stretta editoriale da parte di Mediaset? Secondo Fabrizio Corona non ci sono dubbi su chi porterà a casa il primo posto al reality. L'ex re dei paparazzi ha attirato l'attenzione dei suoi seguaci su Telegram dove? Nel corso di una diretta, ha fatto un pronostico sulla finale di questo Grande Fratello VIP. Vi svelo in anteprima il vincitore del Grande Fratello VIP, ha fatto sapere. È Edoardo Tavassi. È convinto. C'è un perché, non si tratta di un complotto, bensì del fatto che ha un metodo di come funzionano i social media. Vincerà lui, spiega Corona. Il romano classe 1985, è il fratello di Gwendalina Tavassi. Reginetta dei reality, e alle spalle un'esperienza non altrettanto fortunata all'isola dei famosi. Che ha dovuto lasciare prima del tempo per via di un infortunio. La vittoria al GFV potrebbe essere per lui un'importante rivincita. La vittoria di Tavassi fino a qualche settimana fa era data praticamente per scontata dai bookmakers. Ma dopo gli ultimi sviluppi la classifica ha subito alcune variazioni. Secondo i principali siti di scommesse infarti. A giocarsi il primo posto saranno Riana Marzoli ed Edoardo Tavassi. L'influencer sudamericana è apprezzatissima dal pubblico per la sua spontaneità e sembra essere al momento la preferita in assoluto. Nonostante sia entrata nella casa con il programma già in corsa. Fa un passo indietro. Secondo i sondaggi, Nikita Pelizzon, data al terzo posto secondo le classifiche aggiornate. Seguono Mikolin Corvaia, coinvolta nell'affaire amoroso con Tavassi, e subito dopo Giaele Dedona. Con un notevole distacco poi ci sono Alberto De Pisis e Milena Miliconi, che è la meno scelta dal pubblico stando ai sondaggi. Maxi, gespe, chimie, rimaru, spike, buia, si suapo, grasul, nimeni altu, delvede, sau carbo. Trei să vă mănânci vers cu vers card intens, trei să crezi, crezi ce vrei să crezi. Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor, de zici că mă barc cu bossul. La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumosul? Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie. Când adun cuvinte din domn, mă pun, le pierd la o mie de grade Celsius. Să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie.